Ogni ospedale deve avere una sua specificità nell'ottica di una rete integrata. Questo l'obiettivo dei vertici dell'ASL Napoli 3 Sud per ampliare l'offerta assistenziale. In particolare al Maresca di Torre del Greco da qualche settimana è partita una nuova riorganizzazione delle attività chirurgiche. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio illustra il nuovo percorso e i progetti dell'azienda per il futuro. L'ospedale di Torre del Greco come io ho sostenuto con il direttore generale anche nel passato fa parte di una rete integrata. Io non mi stancherò mai di ripetere questa frase che non è una frase pleonastica ma è il senso profondo di individuare in ogni ospedale una sua specificità. Nell'ambito invece di quella che è la riorganizzazione dell'offerta sanitaria, su Torre del Greco ci sono due aspetti, uno contingente e uno strutturale. L'aspetto contingente è che avendo dovuto riaprire Bosco Tre Case come Covid Hospital abbiamo inviato a Torre del Greco quelle attività, penso alla chirurgia, l'ortopedia che stavano su Bosco Tre Case. Nel primo periodo durante il lockdown ne abbiamo sofferto, due al fatto che Bosco Tre Case ha chiuso, che l'unico pronto soccorso ortopedico era diventato Castellammare. Memori di questo e avendo fatto una serie di valutazioni con il dottore Sannino che non solo è primato di ortopedia ma anche il direttore del dipartimento e con i suoi collaboratori, nonché con il dottore Siani, direttore di Torre del Greco e il dottore Marziani, responsabile del Covid Hospital di Bosco Tre Case, abbiamo ragionato nell'offrire una proposta differenziata. Per la qualcosa abbiamo allocato in Torre del Greco un letto ortopedico, abbiamo allocato un arco a C, abbiamo allocato quello che è una scialitica per permettere gli interventi ortopedici, che in questa fase sono quelli legati esclusivamente alla rispondenza dell'EA, che sono i livelli essenziali dell'assistenza, quindi per le fratture di femore nei ultrassanti a cinquenni. In una prospettiva, diciamo, di normalizzazione, quando Bosco Tre Case tornerà a non essere più un Covid ospita, ma un ospedale normale, l'idea dell'amministrazione è di differenziare l'offerta. In che senso? A Bosco Tre Case, dove c'è anche una rinnovazione, effettuare la traumatologia, sia ortopedica che chirurgica. A Torre del Greco, invece, per l'ambito ortopedico, effettuare la protessica, che è generalmente una chirurgia pulita, in cui gli eventi o le complicazioni sono alquanto rare. In questi giorni dovrebbe iniziare la progettazione, a Torre del Greco, di sei posti letto di subintensiva, che saranno allocati alle spalle del pronto soccorso. Al momento, per quanto riguarda gli interventi chirurgici, a Torre del Greco vengono fatti sia quelli d'urgenza che quelli di elezione? Sì, di fatto questo è. E tra le altre cose, già adesso l'area ortopedica chirurgica ha 16 posti letto. La logica è arrivata a 22 posti letto su quel ambito. In un tempo che speriamo breve, perché avendo da soresa i progettisti potremmo, entro inizio dell'anno prossimo, avere l'opportunità di poter fare un nuovo reparto a fianco al blocco ortopedico, in modo da trasferire lì l'area chirurgica ortopedica, quindi a fianco al blocco, quindi con un percorso vicino allo zero. E l'area che attualmente abbiamo strutturato con i 16 più 6 posti letto fa diventare riabitazione lungo d'urgenza. Oltre agli interventi di chirurgia e di ortopedia, in questo momento vengono effettuati anche altri interventi di altre branche specialistiche? Sì, quelli di oculistica, dottore Verolino e quelli di otorino. Per quanto riguarda invece il servizio di cardiologia, si parlava di un'implementazione con la possibilità di fare anche un H12 rispetto all'H6. Sì, noi abbiamo individuato due dei cardiologi di Bosco per il settore del greco. Una particolarmente esperta in quelle che sono i pacemaker, tant'è che è venuta, l'altra per fare un discorso su 12 ore. C'è un punto interrogativo che è legato all'attivazione dei posti letto su Bosco Trecase. Quindi questo rafforzamento dell'organico per quanto riguarda il servizio di cardiologia potrebbe essere solo temporaneo? Ma no, perché noi abbiamo bandito un concorso, quindi dipende dal numero di partecipanti e poi soprattutto di chi accetterà. Tornando al piano sanitario regionale e al successivo atto aziendale, a Torre del Greco sono previsti posti letto anche di oncologia e gastroenterologia. Che punto siamo? Allora voglio chiarire con molta terminazione. Oncologia sono posti letto in deospita. Il reparto di oncologia medica allo Stato non è ancora previsto perché noi puntiamo su quelle che sono a dimensione, ribadisco di specificità, che sull'area medica vede un'area internistica, un'area di lungodeggenza e un'area riabilitativa. Per quanto riguarda la gastroenterologia il discorso è analogo, ovvero sia di desargeri, di deospita, ma come posti letto ordinari in questa fase, anche perché le tecniche di gastroenterologia determinano che i posti letto ordinari possono tranquillamente essere appoggiati in area internistica, laddove siano necessari. Quindi a pieno regime l'ospedale di Torre del Greco quanti posti letto dovrebbe contare? In questa fase, l'arco dell'anno 2021, quello che potrei prevedere sono sei posti di subintensiva, che oggi non ci sono, diciamo ampliare il deospita all'oncematologico, che c'è praticamente, determinare quello che è un reparto di medicina interna, di area chirurgica, che vuol dire chirurgia, ortopedia, con le blanche anche di oculistica e otorino, laddove è necessario di un posto letto ordinario, dico laddove è necessario, perché oggi i DR e G sono in gran parte dei sargeri o addirittura di PAC. Non a caso, voi sapete che a Torre del Greco l'oculistica ha avviato anche i PAC, così come anche, diciamo, l'ortopedia, e d'altra parte invece fare un reparto di lungoleggenza e un reparto di riabilitazione. Oltre ai sei posti letto di subintensiva e all'implementazione dell'area ortopedica chirurgica, la specificità del presidio ospedaliero torrese sarà la riabilitazione da lungoleggenza.